benvenuti alla prova della demo di sonic team racing per sega mega drive è una demo realizzata da gasega 68k esattamente come g0 e anche in questo caso i risultati sono ottimi qui assomiglia chiaramente a super mario kart si ha una simulazione del mode 7 del super nintendo che è resa ottimamente considerando che è un mega drive non so se gasega vuole realizzare un gioco però con questo motore grafico le premesse sono buone bisogna anche vedere come si potrebbe comportare questo programma aggiungendo la presenza di altri avversari e magari anche dividendo lo schermo in due per una modalità a due giocatori non lo so però fa ben sperare i bonus non sono attivi come vedete però chiaramente è una demo quindi per il momento non è un vero gioco a me piace ritengo che si potrebbe effettivamente realizzare un gioco partendo da questa demo e vedremo vedremo perché comunque questa demo è già vecchia se voi andate sul canale youtube di gasega 68k noterete che è stata caricata circa 5 anni fa quindi di tempo ne è passato se voleva realizzare un gioco forse presumo che a quest'ora lo aveva già realizzato oppure aveva in programma di farlo e poi non è riuscito non lo so però non si può mai sapere in futuro magari lo realizza speriamo perché a me piacerebbe oh ragazzi può anche essere che gasega ha realizzato il gioco e io non lo so eh tutto può essere nella vita io ho fatto una ricerca e non ho trovato niente ma non sono infallibile spero che questa prova vi abbia incuriosito se il video vi è piaciuto vi chiedo un like e un'iscrizione al mio canale grazie per la visione grazie per la visione